Non so quanti di voi conoscono l'anduia, ma penso pochi, sono pochissime persone che la conoscono. Questo è un prodotto straordinario che viene fatto in Calabria, questa viene da Spilinga, che credo sia la capitale. Poi posso essere smentito, non è questo il problema, ma di questo straordinario salume. Ed è talmente straordinario che oggi ci vado a fare una pasta straordinaria, straordinaria nella semplicità. Cominciamo a farla? Sì, perché vale la pena. Cipolla, scegliete cipolla rossa o cipolla bianca, oppure come farò io, che le uso tutte e due. Ma sapete perché le uso tutte e due? Perché le cipolle rosse me le ha avanzato solamente una, solo per questo. Non tritare, affettare. Direi che questa qui per due porzioni abbondanti vada bene, quindi diciamo due cipolline medio-piccole oppure una cipolla grande. Metto in una padella un po' di olio e ci metto la cipolla a stufare. Un pizzichino di sale, ma proprio un pizzichino perché mi serve che le cipolle possano tirare fuori i liquidi. Quindi un pizzichino di sale. Qui sul sale, in questa ricetta, bisogna stare attenti perché la anduia è bella sapida. Ora, con tutta la pazienza del mondo, si fanno stufare queste cipolle per qualche minuto. Considerate almeno una decina di minuti ci vorranno. Nel frattempo però si può partire a fare anche la salsa di pomodoro. Altra padella, altro giro d'olio, un paio di spicchi di aglio, così si insaporisce subito l'olio. E ci metto anche subito nell'olio un paio di foglioline, due o tre foglioline di basilico. Voglio che si insaporisca bene l'olio. L'olio comincia a essere ben caldo e questo si vede dalle bollicine che si creano intorno alle foglie di basilico e alle foglie di aglio. Si va ad aggiungere il pomodoro. Fate attenzione che schizza, eh! Ora si abbassa la fiamma. Mi raccomando, eh! Piano, dolcemente, si porta avanti la cottura di questo pomodoro. Ho messo questo sopra perché il sugo altrimenti sarebbe andato su tutta la cucina. Guardate come è diventato bello denso. Non fatelo diventare troppo, troppo, troppo denso perché poi non deve essere un concentrato di pomodoro. Ora si va ad aggiungere l'anduia. La quantità, ovviamente decidete voi, quanto ne volete mettere, quanto volete che sia intenso il sapore. Ecco, visto che ci siamo, tolgo anche gli spicchi d'aglio e faccio sciogliere bene l'anduia. In questo caso qui non è che deve essere cotta, si deve sciogliere e basta perché poi è quello, ha talmente un sapore buono, incredibile. Aggiungo le cipolle. Nel frattempo, che intanto si sta amalgamando, comincio a far cuocere la pasta. Acqua che bolle. Salo l'acqua. E metto la pasta, metto delle penne, però voi usate il formato che vi piace di più. E giro col mestolo induiato. La cosa importante è assaggiare. Perché? Perché avete visto che nel pomodoro non ho aggiunto sale. per sentire se la quantità di sale che c'è è corretta. L'anduia lo fa il suo lavoro, ma è buonissima. Allora, se dovessi condire la pasta solamente con questo sugo, forse un pochino di sale lo aggiungerei. Ma col fatto che dopo poi ci grattugierò sopra il provolone piccante, non serve assolutamente. Questo sugo è pronto. Lo posso anche tranquillamente fermare la cottura qui e aspettare che la pasta sia pronta. Io sto continuando ad assaggiare perché è favoloso. Tutti gli ingredienti di questa ricetta li trovate su www.casapappagallo.it dove ci sarà anche tutta la spiegazione della ricetta. Buonissimo. E vado a mettere la pasta nel sugo. Come sempre ho fatto sugo con pasta. Questo era un sugo che tranquillamente poteva servire tre, se non addirittura quattro porzioni. Piccole rifiniture, non obbligatorie, ma credetemi ci sta bene. Un pochino di basilico così spezzettato a mano alla fine. Così. Che profumo incredibile che c'è. E poi ci si gratta sopra il formaggio. Un po' in padella e poi un po' lo mettiamo nei singoli piatti. Il piatto è pronto. Ci si grattugia sopra ancora un po' di formaggio. Ora però me lo gratto anche un pochino in padella. Ma è perché ora è il momento veramente duro. Quello in cui devo assaggiare. Sforzandomi veramente tanto. Ho raccolto un pochino di sugo. Appena un po'. Vado. Allora, come poter descrivere questo piatto? È buono. Ma, oh! Mamma mia, mi ha preso proprio il tessuto di freddi. Mi stava cascando. Allora, mi sono anche sporcato. Guardate, sono sporcato. È un classico sporcarmi mentre assaggio questo sughi. Allora. Amate il piccante. Ma il piccante non solo quello che brucia. Che qui non c'è bisogno di arrivare ai record di piccantezza. Ma se amate il piccante, questa è una delle paste più buone in assoluto da fare. Ma veramente, credetemi, è straordinaria. Guardate la goccia. Puc, che casca. Alla prossima. Vabbè, ve lo dico con questo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.